Chi è lei? Io sono la signora... la signora Fuccini. Ah, ho capito. E nel film che fai? Davo il cencio al marciapiede. E perché bisogna andare a vedere questo film? Perché è bello, poi è un film di un attore del paese. Quale paese? Quarata. Ah, ecco. E se che ti consigli? Sì. Ecco. Dunque? Ci vediamo al cinema. Ciao! Ciao!